Quella di oggi è sicuramente una grandiosa giornata di calcio e come ho già anticipato la affronteremo tutta insieme nella sua grande totalità. Probabilmente quando vedrete questo video sarà da poco iniziato il Napoli o mancheranno pochi secondi che inizia il Napoli, il City con il Liverpool è già iniziato, il terzo video del giorno su questo canale si occuperà probabilmente di City Liverpool, poi andremo sull'altro canale su SQL, fa parlare, dover parlare dell'Inter, anche del Napoli e infine del Milan, ma in questo video ragazzi bisogna parlare del classico perché il Real Madrid batte il Barcellona e manda sicuramente un segnale importantissimo nel classico, Carlo Ancelotti risponde presente ancora una volta quando l'unica cosa importante, la cosa fondamentale è rispondere presente, ma prima di iniziare lasciatemi dire che vi lascio in descrizione il link per acquistare il libro. Regà, acquistate il mio libro, guida completa ai mondiali di calcio in Qatar 2022, trovate veramente tutto, mio libro scritto da me in persona, grazie mille, se lo farete mi fa molto molto piacere, dai e acquistate questo libro, mi raccomando, link in descrizione. Detto ciò torniamo a noi, Real Madrid-Barcellona, al dodicesimo la partita si sblocca e si sblocca a favore del Real Madrid, ma come si sblocca? Si sblocca con il solito, infinito, non Karim Benzema, perché sì, il gol è di Karim Benzema che torna oggi e stavamo tutti aspettando il capitano del Real Madrid, Karim Benzema, sbloccare questa partita, ma il nodo tattico e cruciale non è quello di Karim Benzema, è quello di Toni Kroos che si sveglia, fa un lancio che per me è illegale, per me è definibile illegale per Vinicius che parte, poi vabbè ragazzi, Vinicius dà uno strappo, spacca tutto, spacca la qualunque, arriva verso la porta, tira contro Ter Stegen, il Barcellona in questo momento a mio avviso è uno dei migliori portieri del mondo, uno, non il migliore, ma uno dei migliori portieri, para Ter Stegen, su ribattuta, va Karim Benzema, Karim The Dream, il solito Benzema, e fa il gol dell'1-0, il gol che sblocca la partita assolutamente, lì dove secondo me c'è un gran lavoro come vi ho detto di Kroos e di Vinicius, oltre a Benzema che quest'anno vincerà il pallone d'oro, lo stiamo aspettando, lo vincerà sicuramente perché se lo merita e perché è giusto che lo vinca. Dall'altra parte c'era Lewandowski, perché dico questo? Perché questa era oggettivamente la sfida tra Lewandowski e Benzema, la sfida tra centravanti, la sfida anche tra palloni d'oro, tra chi merita di vincerlo quest'anno e chi merita di vincerlo e non l'ha mai ricevuto, solo che io credo che Robert Lewandowski, non dico che si sia un po' pentito di aver scelto il Barcellona perché sarebbe scorretto, lui voleva andare via, voleva lasciare il Bayern Monaco, voleva cambiare aria, aveva rotto con la piazza, però secondo me si è reso conto che adesso gioca con compagni molto più scarsi, nulla contro, ragazzi il Barcellona c'è un centrocampo con Boschetti e Young, non parliamo di calciatori scarsi a sé, parliamo proprio di gruppo in difficoltà, Xavi sta ricostruendo, però è una cosa, scusate il messaggio su Whatsapp, è una cosa che diciamo ha bisogno di tempo, cioè vedevo Lewandowski che faceva dei movimenti a memoria, partiva, boom, e si infilava sempre sulla linea del fuorigioco, quando magari che ne so, al momento che Balde, al momento Pedri aveva il pallone, poi però non glielo davano mai, poi però il pallone invece di darlo a lui lo davano dietro, lui al Bayern Monaco giocava per automatismi, sapeva benissimo che quando il pallone ce l'aveva il terzino sarebbe poi finito a Lewandowski, quindi lui faceva sempre il movimento, ogni volta davanti al pallone, se l'avessero dato a Lewandowski, probabilmente sarebbe arrivato in porta, e invece in porta Lewandowski non ci arrivava perché il pallone non gli arrivava mai, ecco, questo è un modo completamente diverso di giocare, Barcellona che gioca bene perché gioca bene, però il Bayern Monaco ragazzi, parliamoci chiaro, era tutta un'altra cosa, il 2-0, alla fine il bello Real Madrid lo fa dopo 35 minuti, per colpa di una difesa inguardabile, in difficoltà, tanto in difficoltà, di Blaugrana, oggi è tornato Koundé, anche Koundé insomma deve un pochino ricostruire anche la sua forma fisica, è normale ragazzi, torna oggi dopo un infortunio, ma poi il Barcellona con Serghi Roberto Garzi e Balde, non è che si parla di una difesa così tanto imperiosa, basta pensare che di là c'erano centrali Militao e Alba, da una parte Mendy e dall'altra Carvacalcia, ma di che cosa stiamo parlando? Ma soprattutto l'errore che fa Garzia, ragazzi, è veramente pesante, perché Eric Garzia si inventa di incesplicare sul pallone, regalarlo a Vinicius, Vinicius che dà questa palla a Chouameni, scambio con Mendy, palla dentro, invece che premiare l'inserimento di Benzema, che è bravo ad inserirsi e si porta tutta la difesa appresso, la palla finisce dietro, tra i piedi di Valverde, che dà alla destra, perché Valverde, se seguite la Liga lo sapete, se non la seguite, giocatore totale, gioca ad esterno, gioca alla, gioca trequartista, gioca a mezzala, gioca ovunque, si sta confermando ad alti livelli come ala nel Real Madrid, da un paio di danni a questa parte, Valverde si accentra, quindi se Benzema tira dritto, Valverde tira di qua, con Vinicius che aveva allargato l'altra parte, Valverde stringe, prende il pallone, calcio da fuori, la palla si infilla, 2-0, che poi in qualche modo chiude la partita, sebbene devo dire, e devo ammetterlo, che il Barcellona in realtà, prima del gol del 2-0 della Real Madrid, stava giocando bene, anzi stava giocando meglio, arrivava stanco al tiro, faceva forse tanta fatica a non a creare, non a costruire, ma a finalizzare, cosa che Real Madrid non fa, Real Madrid si dimostra squadra cinica, Real Madrid è che non deve costruire nulla, Real Madrid ha due o tre anni davanti rispetto al Barcellona nella costruzione di un progetto, questo non vuol dire che il Barça non possa bruciare tappe, secondo me, però il Real Madrid, io lo vedo oggi nello scontro diretto, è molto più forte, per me, vi dico proprio chiaramente, andando un po' contro poi i fan del Real e a favore dei fan del Barça, per me questa riga alla fine la vince il Barça, non so come, non so quando, ma alla fine per me la vince il Barça, perché c'ha tanta qualità, perché si è rinforzato molto, perché Xavi nel mercato è stato accontentato, questa è una cosa da non sottovalutare, perché è stata data, ma chi cazzo è, madonna mia che palle, oh, madonna mia, eh che cavolo, madonna che nervi, comunque stavo dicendo, sempre, silenzia sempre, a morte proprio, madonna che nervoso, stavo dicendo, Xavi gli è stata costruita la squadra che voleva, a Xavi è stata costruita la squadra che voleva, ok, quindi bene o male i calciatori giocano come ce li vuole, poi nello scontro diretto il Real è più forte del Barcellona, ma anche l'Inter nello scontro diretto dimostra di essere più forte del Barcellona, vince a Milano, anche se il Barça meritava qualcosa di più, poi finisce in pareggio a Barcellona, dove però l'Inter meritava qualcosa di più, l'Inter per me dimostra di essere più forte del Barcellona, certo che se facessero un campionato insieme è probabile che il Barça gli arriverebbe sopra, e secondo me il Barça arriverà a superare la Madrid a fine anno, anche se questo è un pronostico molto molto difficile, inoltre va detto anche che difensivamente al Barcellona gli manca tutta la squadra, perché gli mancava Bellerini sulla fascia, perché gli mancava Christensen preso dal Chelsea, che comunque Xavi ha già bello che è plasmato, bello che è studiato, sa dove metterlo, sa come metterlo, gli mancava Arauco, Arauco ragazzi è un altro calciatore che in questo momento al Barcellona manca veramente veramente tanto, e è un calciatore centrale nel progetto del Barcellona, non giocava oggi Jordi Alba, non giocava oggi Marcos Alonso, poi il Barcellona ha fatto, non dico un turnover perché non è un turnover, però ha fatto delle scelte dove sicuramente può permettersi di lasciare, cioè Piché ad esempio ultimamente è inguardabile, Piché è inguardabile, Piché sta facendo un errore dopo un altro, penso sia finito, però comunque il Barcellona è partita, c'è Jordi Alba, Alonso, Piché, ma anche Gavi, anche Ansufati, anche che sì, anche Ferran Torres, c'è la squadra ragazzi, il Barcellona ce l'ha, non dico che non ce l'abbia, forse guarda, la difesa ha tutti dei 6,5-7, tranne qualche eccezione un po' più alta e un po' più bassa, però non ha dei top player, ecco questo forse gli pesa, poi un'altra cosa che ho notato è che secondo me il Barcellona dovrebbe mettere a posto, perché Real Madrid questa cosa ce l'ha e è clamorosa, voglio fare i grandi complimenti a Real Madrid, parte Ancelotti li fa giocare benissimo, il Real Madrid attacca in 3, attacca sempre in 3, non attacca in 5, in 7, no, ci sono squadre che portano, guarda Gasperini, quando Gasperini e la sua Atalanta giocano, porta 12, no, 12 no, ma 6-7 giocatori ad attaccare, 6-7 giocatori in area di rigore, e quindi risultate bastante, perché come fai a fermarli, come fai a fermare 6-7 giocatori in area di rigore quando attaccano? È chiaro che se perdi poi quel pallone e loro ripartono, cioè, ora ammazzo qualcuno, ti ho silenziato, perché continuano ad arrivare i miei messaggi, voglio sapere io, perché se ti ho silenziato, no? Porca la vacca, perché continuano ad arrivare i miei messaggi, chiusa la scheda? Oh, stavo dicendo, il Real attacca in 3, il Real attacca in 3 e 3 gli bastano per essere devastati, 3 gli bastano per spaccare tutto, sono infermabili, sono imprendibili, al Barcellona quando attacca manca il collante, è come se non si conoscessero ed effettivamente non si conoscono, perché se li andiamo a prendere uno per uno, uno arriva dal Litz, se non sbaglio Rafinha, che è un giocatore che insomma non ha mai giocato, è fortissimo, è fortissimo, non ha mai giocato a questi alti livelli, uno è Lewandowski che dopo 100 anni di Bundesliga, il cagero solo in Bundesliga, si appresta ad affrontare un altro campionato, l'ultimo è Ousmane Dembélé, sono tutti e tre top player secondo me, ma Dembélé è anche un giocatore che per, diciamo, anni ha fatto al Barcellona la panchina, alla tribuna, è stato messo sul mercato e adesso, solo adesso, sta riprendendo in mano il suo futuro, lo riprende pian piano, e poi diciamo anche che comunque il Real Madrid negli ultimi anni, proprio perché non ha avuto questo calo gigantesco che invece ha avuto il Barcellona, ha avuto modo di riprogrammare il futuro, perché il Barcellona, che comunque è ugualmente una squadra valida, poi alla fine dovrà la provare a riaprire, il gol del 2-1 e tutto quanto, il Real Madrid ha saputo anche investire sui giovani, Valverde è un giovane, Militao è un giovane, Chouameni è un giovane, prendo la panchina, vi dico Kamaving è un giovane, sono tutti, Valverde ve l'ho già detto probabilmente sì, Rodrigo è un giovane, vabbè Vinicius è un giovane ma è anche fortissimo, e sono tutti giovani che a mio avviso possono essere tra i migliori al mondo, quindi quello che il Barcellona ha fatto per ricostruire il Real Madrid ha fatto per dare un'occhiata al futuro, e questo per me è fondamentale, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, vi ringrazio tantissimi, mi piace, boccia la tale come sempre, ci vediamo al prossimo video.